Grazie a tutti, grazie per essere rimasti alla premiazione della gara di oggi. Si è giocata la seconda edizione della Happy Car Sharing Golf Cup. Stanno con Formula 18 Buche, Stable Ford, tre categorie. I premi sono gentilmente offerti dalla Elettra Investimenti, che ringraziamo. Al tavolo della premiazione, il dottor Massimo Bombacci, amministratore delegato dell'Elettra Investimenti, il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club di Puntala. Bene. Prego. Una parola sola, grazie. Il terzo anno che mi sembra che facciamo la gara, il terzo anno abbiamo le colonnine elettriche qui a Puntala, porteremo le macchine però per fine luglio, per fine mese, e speriamo che funzionino e che vengano prese. Poi quest'anno che c'è più gente, mi dicono che poi il porto è chiuso, perciò un modo per entrare al porto, entrare con la macchina elettrica, mi auguro che inizino a entrare un po' nei costumi dei puntalini, se al momento è abbastanza poco, però piano piano modificheremo i comportamenti, e perciò si imparerà a usare anche macchine in carcere. Comunque, grazie, capo splendido, giornata buona. Grazie, grazie Massimo, grazie a tutti voi che avete partecipato. Io peraltro personalmente, anzi, noi come famiglia siamo veramente fautori delle macchine elettriche, noi viaggiamo solamente elettriche, dove a Puntala, peraltro alla bussola proprio abbiamo le ricariche delle macchine che porterà ora, già detto a fine mese, saranno le a disposizione, quindi ci sono da noi alla bussola che è al porto e anche da l'institutore. Ce n'è una da Ivan, una al porto e una da voi al parcheggio della bussola. Quindi si fa una triangolazione, spiagge, porto e diciamo centri di Puntala per intendere il quadro, quindi credo sia una cosa importante per Puntala. E qui alla macchina elettrica può avere soltanto la ricarica, nel senso che ricaricano le nostre macchine, ma ricaricano anche macchine private elettriche. Ma vedo che molti, sempre di più, stanno aumentando anche tanti i nostri soci, ce l'avrebbero chiesto anche qui, le abbiamo guardate anche insieme per mettere anche lì una ricarica. c'era un po' di problemi per il passaggio elettrico, comunque magari lo valuteremo prossimamente. Quindi noi stiamo molto attenti a queste cose, infatti anche nei lavori che abbiamo fatto qui di restyling, abbiamo guardato anche a quelli che sono i consumi energetici su tutti gli impianti, sia elettrici che di condizionamento. Quindi ci fa particolarmente piacere ospitare una gara di questo genere che ha questa filosofia come scelta. Quindi niente, complimenti chiaramente ai vincitori, peraltro ci sono stati anche dei bei risultati. L'appuntamento è alle prossime gare, sabato e domenica, anzi già giovedì, giovedì con la Fideuram, sabato con una tappa di qualifica dei Vignaioli del Morellino, e sabato e domenica abbiamo qui la gara dell'Aci, che è un'altra gara bella e importante, che darà ai vincitori l'accesso alla finale diretta per una settimana alle canali. Quindi anche questa è una gara da non perdere perché è un premio molto attivante. richiedono solamente l'abbonamento per le auto, per l'Aci, chiaramente però insomma mi sembra che la tariffa sia minima e i servizi che offre sono abbastanza importanti. Grazie nuovo a tutti e avanti con la relazione. Se giudica il primo signore, con 39 punti, Guido Pallombieri. Bravo Guido! Bravo Guido, bravo Guido, guarda sempre lei. Perfetto. Grazie. Primo signore, con 35 punti, Arianna Lenzi. Brava Arianna. Arianna? Con lo sfondo. Brava. Brava Arianna. Brava Arianna, perfetto. Aspetta, vai. Vai, posto. Brava Arianna. Nella terza categoria, con handicap di gioco da 25 a 36, vince il secondo netto con 42 punti, Patrizio Strino. Molto bene. Ma quanto è più interessante la vostra, allora. Bravo. Perfetto. Ok. Bene. Primo netto di terza categoria, con 45 punti, Ugo Pambianchi. Bravo. 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 Ugo. Bravo Ugo. Ok. A lei. Sì, sì, tanto la peso. Grazie. Bene Ugo. Grazie. Seconda categoria, con handicap di gioco, da 17 a 24 vince il secondo netto, con 39 punti, Sandro Pagni. Bravo Sandro. Peccato. Peccato, è andato... Dopo, non essendo presente, il premio andrà a estrazione fra i presenti. Meglio. Che lo avevamo due volte. Un applauso vero. Lo metto io, no. Primo netto di seconda categoria, con 41 punti, Pietro Biscardi. Bravo Pietro. Anche Pietro... E anche questo andrà a estrazione. Eh sì. Passiamo alla prima categoria, con handicap di gioco, fino a 16. Vediamo il secondo netto, con 39 punti, Giovanni Galeotti. Bravo Giovanni. Bravo Giovanni. Bravo Giovanni. Perfetto, vai. Primo netto di prima categoria, con 39 punti, Carlo Pittatore. Bravo Carlo. E anche Carlo. Bene, bene, bene ti è venuto. Non c'è. Per i presenti si avranno scenari inattesi, direi, per i presenti. Primo nel lordo, con 37 punti, Lorenzo Rossetti. Bravo, bravo. Bravo. Mi fai tornare a questo punto? Bravo, bravo. Bravo. Ecco, fatto. Vai. Perfetto. Prosto. Bravo, bravo. Grazie. Grazie. Grazie.